Ciao, voglio parlarti di una cosa che secondo me è un po' fastidiosa e che mi dà veramente noia dal punto di vista fotografico è quello del problema che abbiamo in quanto fotografi ad essere fotografi nell'era di internet secondo me essere fotografi nell'era di internet è difficilissimo perché ci troviamo bombardati da una serie di persone che ci propongono qualsiasi tipo di argomento qualsiasi tipo di discorso relativo alla tecnica, relativo all'attrezzatura, relativo a quello che dovremmo o non dovremmo fare e spesso questi consigli arrivano da persone che magari non hanno mai, e dico mai, lavorato a livello commerciale nella fotografia quindi non sono mai stati pagati per realizzare una foto questo lo trovo abbastanza pericoloso perché una persona che si affaccia per la prima volta al mondo della fotografia e si vede bombardato da tutti questi contenuti gratuiti e non spesso si ritrova in balia di persone che non hanno cognizione di causa perché non conoscono affatto il mercato fotografico spesso invece di concentrarsi sul mercato fotografico addirittura ci si concentra sulle fotocamere, sui megapixel, su tutti questi tecnicismi che sì, in parte sono importanti per il fotografo ma d'altro canto vengono veramente esagerati in modo da tirare i click e da tirare l'attenzione di chi guarda dobbiamo ricordarci che nel mondo di internet, ad esempio mettendo un video su youtube o scrivendo un post su un blog tutto ciò che c'è all'interno di questo articolo potrebbe essere vero oppure no perché non c'è nessuna entità che controlla la veridicità di quello che diciamo è molto difficile quindi scegliere di chi fidarsi e capire se andare a guardare uno youtuber rispetto a un altro se andare a leggere un sito rispetto a un altro ti dico questo perché in primis quando iniziavo con la fotografia sono andato a cercare varie informazioni e spesso confrontando le informazioni di una persona rispetto a un'altra o di un canale rispetto a un altro le informazioni erano contrastanti e quindi ti vai a chiedere ma che cosa è giusto, cosa è sbagliato questo crea tantissima confusione nella mente di chi sta iniziando con la fotografia che cosa si può fare in questi casi? è importante andare a cercare la bontà alle spalle del personaggio che ci dice determinate informazioni possiamo andare a cercare che cosa hanno fatto a livello fotografico se stanno cercando magari di venderci qualcosa se stanno cercando di trarre dei profitti da noi in qualche modo infatti ricordiamoci che spesso chi crea contenuti ha in mente alcuni obiettivi uno può essere quello di vendere un altro può essere quello di ottenere materiali gratuiti come una sorta di influencer che riceve magari dei prodotti fotografici per poi parlarne alla sua audience oppure in ogni caso di generare soldi tramite il proprio website o il proprio canale spesso capita che magari personalità di questo tipo accumulino tanti followers e quindi noi diventiamo a nostra volta dei followers fidandoci del fatto che siano già popolari però questo non ci garantisce che le informazioni che vengono date siano corrette e siano genuine un'altra cosa che secondo me è dannosa nel mondo fotografico è quella di accedere ai forum di fotografia dove spesso le discussioni hanno dei toni errati perché spesso ci si giudica l'un l'altro e a volte ho notato che si tende a concentrarsi tantissimo sull'attrezzatura ci sono persone che sono fissate con l'attrezzatura che vanno a controllare il pixel fino al minimo dettaglio secondo me questa è una cosa in cui è meglio non rimanere bloccati dobbiamo pensare molto di più alla produzione fotografica in senso più ampio per ciò che concerne la creatività, ciò che concerne l'inserirsi nel mercato il business, la cura delle proprie finanze e della salute della propria carriera fotografica quindi spesso l'ambiente online e dei forum lo reputo dannoso ti dico questo perché in primis quando ero agli inizi ho seguito come ti ho detto delle persone che poi si sono rivelate in parte dei ciarlatani e poi anche perché mi sono reso conto di trovarmi intrappolato in discussioni riguardanti magari l'attrezzatura o riguardanti delle stupidaggini che poi col tempo mi sono reso conto non essere importanti una volta che deciderai l'attrezzatura che vuoi utilizzare se questa si adatta al tuo tipo di fotografia e le tue esigenze ti assicuro che non ci penserei più finché non verrà fuori un nuovo bisogno in quel caso dovrai andare a colmare con un'altra tipologia di attrezzatura che non possiedi o integrare quello che già hai acquistato detto questo, riassumendo sicuramente internet è un ambiente molto vario, molto vasto e dobbiamo cercare di essere bravi a scremare i contenuti buoni da quelli non buoni all'inizio della professione fotografica si sarà molto soggetti a farsi trascinare da una corrente rispetto a un'altra ma man mano che riusciamo a fare una cernita dei buoni contenuti e riusciamo a capire chi siamo a livello fotografico sarà sempre più facile riuscire a muoversi in modo corretto nel mondo di internet senza venirne fagocitati dimmi pure che cosa ne pensi spero che questo video ti sia stato utile e ci vediamo alla prossima ciao e buon lavoro